ero su in trentino parliamo di una venticinque anni fa un lavoro del genere su in trentino io sono organista della tecola sono l'organista della cattedrale insomma quindi il duomo di reggio e ero là che gironzolavo per una chiesa e chiede al parroco se potevo provare l'organo sì sì per bacco grazie mi sono messo un bel organo un bel mascione ricordo due manuali pedaliere completa uno un elettropneumatico molto molto solenne come organo mi ero messo udite udite a suonarmi per il mio gusto personale la vedete presente la colonna sonora la sigla il tema principale del film je t'aime moi non plus suonava la mia roba arriva lì il parroco mi fa però si sente che è musica nata per la liturgia certo di non lo disillusi mai non me la sentivo di dirgli che l'origine era per un altro tipo di liturgia ma non glielo ho detto mai insomma penso che sia rimasto e sia morto con la sua convinzione lui era sereno e anch'io insomma eravamo tutti molto felici si sente che musica nata per tutte le società umane in ogni epoca storica e per quanto ne sappiamo in ogni parte del mondo hanno creato musica per arricchire i momenti della vita spirituale dalle grandi liturgie pubbliche delle chiese o delle sinagoge delle moschee fino alle preghiere fatte in casa propria o in una cella di convento abbiamo i confratelli che più di altri possono testimoniare l'esperienza del canto anche vissuto nell'ambiente del chiostro eventualmente no del piccolo durante poi lo svolgimento delle liturgie all'organista si chiedeva e va sicuro che si chiede ancora oggi di inventare lì per lì un preludio per un canto oppure di improvvisare una gioiosa suonata conclusiva gli si chiedeva e ancora oggi gli si chiede di allungare o accorciare il brano che sta suonando in funzione delle necessità del momento la processione non è ancora finita stanno preparando l'altare c'è ancora gente che fa la comunione suona organista suona 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 tutti i gesti sono finiti la gente è finita di fare basta stop fine tu sei lì in mezzo a fine e da fresco baldi a oggi certe cose non sono mai cambiate va sicuro nelle copertine dei cd musicali è possibile leggere la durata dell'esecuzione di ogni singolo brano e la durata totale del disco quando ascoltiamo uno di questi brani ad esempio un allegro e subito dopo un adagio quando anche la durata dei due pezzi fosse la stessa il tempo vissuto nell'ascolto non è identico questo tempo non può essere misurato facendo solo riferimento alle indicazioni della copertina è un tempo tuo perché in te si sono avverati dei movimenti diversi quando ascoltavi l'allegro da quando ascoltavi l'adagio dentro di te si è mosso qualcosa ecco il senso del tempo ma a velocità diverse allora la velocità nello spazio determina il tempo ci dice la fisica grazie a tutti